Palla che fa ridere Lui che non ce l'ha questa perversione Fa s*****e Chiara da un altro Ok Poi a un certo punto Questo vi s*****e su Chiara Pensa che immagini incredibili E lui pulisce Chiara Sì però con la lingua è un po' spinto E' vero Muschio senaggio Federico Muschio microfono, videocamere, luci 20 minuti, 1 ora di argomenti Impredibilità, giochi, nadevotezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti Muschio selvaggio Siamo tornati Questo è il primo episodio Della seconda stagione Sì esatto L'abbiamo deciso ora L'hai deciso tu ora in realtà Perché è ufficiale c'è Martin E abbiamo un ospite Eccellente D'eccellenza Quanto sei lento Infatti vedi Di una lentezza Perché fate iniziare Sarà un massacro Perché fate iniziare a lui Perché io spero sempre che il montatore tagli Infatti taglia ed è bravo Mamma mia che lentezza Hai ragione Devo imparare Qui sei nel tuo campo Io sto imparando Va bene Sono Giuseppe Cruciani Non mi è ancora presentato Sono Giuseppe Cruciani Conduttore della ZD Una cosa formale Ma sai perché? Perché sapendo che sei più bravo di noi a parlare Provo a lasciarti la libertà Di farlo Di prendere il microfono Sembra Vai 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 No niente abbiamo Giuseppe Cruciani Ecco bravo L'host principale del podcast più seguito in Italia In realtà è un programma radio Dopo Muschio Selvaggio Dopo Muschio Selvaggio Dopo Muschio Selvaggio Dopo Muschio Selvaggio Sempre dopo Su Apple che lo usano gli anziani Cioè si sa È risaputo questa cosa Sei fortunato che non abbiamo ancora preso in considerazione la radio Sì Anche se secondo me non hai i propri tempi radiofonici Non esattamente per cui non lo so Comunque stagione 2 ci siamo lasciati quest'estate Io, Luis e Martin Dicendoci la stagione 2 sarà pazzesca Avremo delle camere nuove, scenografia nuova Utilizzeremo è È tutto uguale e anche peggio forse No, vabbè No, peggio no Adesso miglioriamo un attimo la sigla Ma vabbè, lo sappiamo già Forse avete sentito la sigla nuova Noi non sappiamo come sarà Perché non l'abbiamo Non l'abbiamo ancora a tempo Prima della pubblicazione Ma parliamo di altre cose Beh, aspettate Abbiamo l'ideatore Tu sei l'ideatore della Zanzara Sì, sì, assolutamente Unico e solo Unico e solo Unico e solo Che è un podcast anteliteram È un programma radio che non sapeva di essere un podcast Sì Si è trasformato in questo in realtà Cioè, siccome ci sono una marea di interruzioni Ed è una rottura di cazzo Seguirlo in diretta infinita Allora, a un certo punto la gente Dopo un po' Si ha detto Ma perché io potrei seguire in diretta Le interruzioni, le pubblicità Le rotture di balle, il traffico Cose antidiluviane Che non si capisce perché le radio Mandano ancora in onda E si spostano Che senso ha il traffico? Come cazzo si chiama? Io vorrei spaccare tutto Traffico orario Io ogni volta che sento il traffico Vorrei ammazzare quello che lo fa Che non c'entra nulla ovviamente E spaccare qualcosa Perché io non ci posso credere Che ci sia una persona Che segue il traffico in quel momento Quando tu hai tutti gli attenzioni C'è il Google Map Che ti dice il traffico Bisogna smettere di installare le radio Nelle automobili evidentemente Forse potrebbe Bisogna andare all'origine Sarebbe straordinario Voglio dire agli editori di Radio DJ Sarebbero contentissimi Sarebbero felicissimi Di un'operazione di questo tipo Gli fatturati che crollano Chissà se la Tesla ha la radio inclusa La Tesla ha la radio però Quella digitale Eh infatti ce l'avevo digitale Penso che tu potresti sentire anche Live muschio selvaggio Sì ho visto che a Spotify Incluso Capito? Anche la mia macchina 2006 È nata la Zanzara Sì ma non mi parlare del 2006 Perché io quando guardo al passato E sento alcune cose Ogni tanto mi mandano Guarda che cosa facevi Guarda che cosa dicevi Guarda come lo dicevi Mi sento male Eri lento? Lentissimo Non come te Io sono più lento Tu sei più lento Ah il 2006 erano altri tempi Però erano altri tempi Sì erano altri tempi Io ero un'altra persona Probabilmente Anche se ero già grandicello E niente Vorrei cancellare tutto Io in realtà vorrei cancellare Anche le cose del giorno prima Vivi molti fatti La giornata Quello che ho fatto il giorno prima È già cancellato Perché nell'80% dei casi Non mi piace mai Non mi piace mai Cioè io dico No no Bisogna fare meglio Bisogna fare meglio No ho sbagliato qui Io sbagliato lì vivo In un continuo tormento Di notte eccetera Rispetto alle cose Che non mi sono piaciute È un continuo tormento Sono un malato Psichiatrico grave Anche Orson Welles faceva così Che non riguardava Sì però adesso Non fare paragoni insomma Impropri Perché non puoi paragonare Ad Orson Welles Però posso dirti Io vivo in un tormento continuo Perché penso Qui si poteva fare meglio Questo qua è sbagliato Questo qua non andava bene Questo ascoltatore Non doveva metterlo in onda Questo qui Potevo dire questo Potevo dire quest'altro È un continuo così Dunque le cose del giorno prima Io le cancello completamente E non le risento mai È bello È giusto Hai proprio Una propensione A vivere la giornata Ma credo che sia Il modo migliore di fare Il successo poi Della zonzara Sì soprattutto Quando si tratta di intrattenimento Poi vedi che sono tutti nostalgici Magari Quando hai fatto qualcosa di migliore In passato Anche lo stesso creatore Mentre tu magari Non piacendoti il passato No a me non piace il passato Nel senso che è proprio Una roba che Voglio dimenticare Per esempio Io sono sempre geloso Di una donna Solo ed esclusivamente Del passato Mai del presente Degli uomini con cui è stata Quello vado al manicomio Perché lì C'è una ragione Molto precisa Non puoi mai intervenire Sul passato Però che te frega No Il cazzo che mi frega Se uno ha scopato meglio Di me Se uno ha amato più di me Se uno ha Che cazzo ne so Qualsiasi cosa Ma non te lo dirà mai No no Se poi vai là a scavare Dice Come non dice Cioè dice Poi non so Si può dire sempre strontate Era sempre Ma va Tu scopri Sei il migliore Si quello è vero Però andando lì Poi a sentire Dice Ah ma come lo faceva Come lo metteva Come non lo metteva Che cosa faceva Come te lo metteva Dove l'avete fatto Che un po' ti intriga Potrebbe anche intrigarti un po' È una delle cose Che mi accetta di più Il racconto Poi nello stesso tempo È tormento Tormento E la frustrazione Siete già troppo raffinati Per me Io sono sulla stessa lunghezza d'onda Già quelle Cioè per me è tutto molto più Più easy Sì Qui siete già degli step Dove è già noioso Quello che faccio io A parte che sto parlando io E non lui Dunque lui sta annuendo Ma non so se è d'accordo No no Io sono perfettamente d'accordo L'ho già letto più volte Che è Quello che poi Tiene in viva la coppia Poi secondo me È un rapporto Queste cose Ci vogliono delle mini perversioni Da portare avanti Secondo me La mia perversione È trombare E farmi raccontare Ogni tanto è questa Farmi raccontare Qualcosa del passato Non tuo No Qualcun altro Mio no Del passato Cioè L'ha scopata così Ti ha fatto un ditalino In un portone Intanto soffri Intanto soffri No La sofferenza in realtà In quel momento C'è solo C'è solo E arriva dopo La sofferenza C'era prima e dopo C'è un periodo In cui c'è solamente godimento Prima e dopo C'è Non frustrazione C'è proprio Tiro del culo Tiro del culo Perché pensi Cazzo ma quella cosa lì In quel momento Lei godeva magari Come ed esattamente Quanto godeva O magari di più Peggio Parte secondo me Di un uomo Che vive la sessualità Più vicina Alla sessualità Di una donna Perché è molto mentale Come cosa E molto meno fisica Non lo so se è così Io sono convinto di questo Non sarà vero Non ho fondamenti Per dire No no Però per esempio Ti faccio Allora La stessa cosa Della radio Io non guardo Cioè il passato Mi infastidisce Perché ci trovo sempre Dei difetti Un modo per essere tormentato Un modo per essere No per mettermi in discussione Invece guardo al presente E la stessa cosa Succede nel sesso Nell'amore Nelle relazioni Se guardo al passato Trovo sempre qualcosa Che non va Cazzo Quello va scopato meglio Quello era più figo Quello era più giovane Quell'altro è Cioè è una roba Da manicomio Sicuro io Per questa cosa qua Soffro quotidianamente E hai mai degli anni d'oro Che ti ricordi Del tuo passato No Assolutamente Tu elimini No Non voglio sapere nulla Non mi ricordo come scopavo Non mi ricordo come baciavo Non mi ricordo È fantastico Perché tu parli di radio E lui parla di scopare No no In generale Non mi ricordo che uccello avevo Cioè è la stessa cosa Non mi ricordo L'altro giorno ho visto Una foto mia A Formentera Di tanti anni fa Ero insieme a Giovalli Insieme ad altre persone Che frequentavano Formentera Negli anni L'irrepressibile Giovalli Negli anni 2000 Cazzo è Giovalli Giancarlo Giovalli È stato direttore Delle reti media Sette uno Un personaggio Detto il guru Ero lì E facevamo tutti Un po' di nudismo Cazzo mi sono visto C'era anche C'erano anche personaggi mitici Il proprietario del ristorante La Giostra a Firenze Ma non voglio fare pubblicità Che non c'entra un cazzo Non gliene frega niente Che si chiama Soldano Ed è il fratello Dell'attuale compagno Della Sant'Anchè Giovalli Soldano Sì personaggi mitici Che voi non conoscete Perché siete troppo giovani Alla Sant'Anchè ci arriviamo Questi personaggi Di nudismo formenteriano Fine anni 90 Inizio anni 2000 E mi sono ritrovato In questa foto C'era un uccello di fuori Ho fatto Ma quello non è il mio uccello Cioè non è possibile È cambiato Ma è cambiato In peggio Sì assolutamente È cambiato in peggio Nel senso Cazzo questo qua Era più slanciato Era più Era più fluido Era più Non lo so Era Vigoroso No vigoroso Non so perché Non era una situazione Diciamo di tiraggio Come si può dire C'era una situazione Di normalità Però lo vedevo più Cazzo no Più soldo Più giovane Erano vent'anni di meno Però cazzo Quando uno è a riposo Non dovrebbe esserci quest'anno Eppure ero magro Come c'è Non sono cambiato molto fisicamente Sì sono cambiato Avrò un po' più di rughe Eccetera E li cambia tutto Che ti devo dire Cioè lo vedevo diverso Più slanciato Più bello È meglio Come se si fosse un po' rattrappito Non so come È meglio non vivere di ricordi Lo dico È meglio non vivere di ricordi La conclusione di questo ragionamento Iniziato da te Sul mio passato Cosa che non dovevi Perché io non voglio parlare Del mio passato Invece tu giustamente Giustamente Chi non è la piaga Mai È questo qua Perché poi pensi Al rattrappimento anche dell'uccello Perché dicono che Un po' si accorcia Ah cazzo Non sapevo No Sostengono che nel tempo Leggermente si accorci Davvero È così Tu non ti preoccuparti Ma pensa te È lui che ci deve Io Deve cominciare a pensarci Deve cominciare Al rattrappimento Per chi non conosce Cioè immagina Noi stiamo parlando Una platea di giovani ragazzi Giovani Sì Che probabilmente Non conoscono la zonzara Alcuni Ma non è vero Tanti sì Ma magari qualcuno lo conosce È vero Come racconteresti il programma Io ho un'idea Allora Io una volta ho detto Vorrei essere sepolto Quando sarà Con Solamente questa scritta Sulla tomba Perché io non voglio essere cremato Voglio essere Integro Cioè proprio tumulato Quasi In vista In bella vista No in bella vista Ti decomponi In modo rendo Però mi voglio decomporre In maniera naturale Non voglio cremazioni Cose Cene Allora Sopra alla tomba Una bella tomba Di quelle tradizionali L'apide Cimitero mio Di famiglia In Umbria Vorrei che ci fosse così Creò La trasmissione Più folle D'Italia Sono d'accordo Bello Cioè è un posto totalmente libero In cui entrano In cui entra chiunque In cui c'è una non costruzione Un po' c'è Viene un po' costruita Ma in realtà si costruisce facendola In cui entrano vari personaggi In cui ci sono diversi burattinai Siamo io C'è Davide Ogni tanto c'è qualcun altro E poi entrano in campo Diciamo scelti E non scelti Delle persone Che possono essere Dei freaks Possono essere Gente che ti fa Un piccolo ragionamento Comunque è tutto folle Non c'è una linea logica Non c'è una costruzione Un po' Anche qui è tutto Sì 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 È folle Noi facciamo ancora meno Riunioni Secondo me autorali Di quelle che fate voi Perché un minimo di argomenti Li preparate Però voi interagite Telefonicamente E direzioni La conversazione Dove dicevamo Prima in treno Dicevo proprio Cruciani è il burattinaio Io ho un amico Che fa video su internet Funziona in questo modo Un po' come la De Filippi Che si mette lì Mette insieme Le persone giuste Ci vuole qualcuno Poi ci vuole qualcuno Che dirige il traffico Per forza Sono io Che dirigo il traffico Però non c'è una Cioè non è che durante il giorno Noi scegliamo delle cose Sì di tanto le scegliamo Però mi viene magari l'idea Dopo 5 minuti prima Che voglio parlare Di pissing Perché magari qualcuno Mi ha mandato un messaggio E allora trovo il modo Di mettere 10 minuti Sul pissing Trovo un pornoattore Che parla di pissing Trovo uno che mi spiega Perché il pissing E come bisogna farlo E come non bisogna farlo C'ho una serie di ascoltatori Che so già Che potrebbero parlare di pissing Che magari chiamo Quindi li metti lì Cioè ti crei il palinsesto Li metto lì Ma non per parlare di mattarella Questo è straordinario Cioè non è che per parlare di politica Parlo È meglio parlare di pissing Ma infatti si vede che Ogni tanto voi sfociate nella politica Ma a te non te ne frega un cazzo Nulla Cioè tu quando chiama La cosa fantastica Di quando guardo la Danzara È che quando chiamo Qualsiasi personaggio che ami Qualsiasi Sia l'interlocutore Cruciani Cerca sempre di fargli Fare L'asserzione peggiore Che possa fare Cerca sempre Il titolo ansa Peggiore Che può uscire Dalla bocca Dell'interlocutore Questa è una cosa un po' vecchia In realtà Cioè è così e non è così Ormai non me ne frega più niente Nemmeno di quello Perché poi hanno cercato Di farli tutti Perché poi la cosa fondamentale In questi casi qui Lo dico anche a tutta la platea Di giovani che ci ascolta Che sono tanti È questa Bisogna sempre cercare L'originalità Ma non a ogni costo Non per essere Non per fare i diversi Ma rispetto ai prodotti Che ci sono in giro Rispetto a quello Tutti quelli che creano Tutti quelli che vogliono creare Tutti quelli che affrontano Un percorso nuovo La cosa fondamentale È questa Cioè vedere quello che c'è E un po' distinguersi Altrimenti Altrimenti sei uguale agli altri L'assurdo è facile in Italia Cioè distinguersi dagli altri Ragazzi Sempre distinguersi dagli altri Un minimo Poi non è che uno deve fare il diverso A tutti i costi Certo Però un minimo Bisogna trovare Perché uno deve ascoltare Muschio Deve ascoltare Barra vedere Muschio selvaggio Perché uno dovrebbe ascoltare Vedere la zanzara Perché trova Qualche cosa in più Un elemento di novità Un elemento di più Un qualcosa di diverso Che dice Fammi sentire Che cosa succede Cosa dice quello Cosa dice quell'altro Chi entra Chi non entra Cioè questo è il punto fondamentale Se non c'è questo Diventi come gli altri E va bene D'accordo Perché li dà campi Perché bisogna anche campare Sì sperimentare Per quello secondo me Rimpiangi spesso Perché ti spingi Dove non ti aspetti Neanche di arrivare Sì perché quello che è successo prima Non conta poi Capito Se dopo tu entri In una dinamica Di non creazione In cui non è Cioè quello che hai fatto prima È gloria Sì d'accordo Vivi di nostalgia I pezzi cult Mi piace che la gente Mi incroci Quando mi incrocio per strada Demo e scimmia Sì mi parla Mauro da Mantova Mauro da Mantova Mi parla dei vegani Di tutte le nostre battaglie Eccetera eccetera Benissimo Straordinario Però poi alla fine Conta questa cosa qua Che conta Il pubblico Quello che si sedimenta Però poi io Non me ne frega niente Dopo due secondi Che mi parlano ancora dei vegani Io non ne posso più Ma sì tu sei già arrivato Cioè appena qualcuno mi dice Vieni in televisione Perché riparliamo di vegani Ho fatto ragazzi Non ne posso più Non che gli devo dire ormai Io ho detto qualsiasi cosa Cioè ho fatto libri Ho fatto una battaglia pazzesca Cioè siamo riusciti un po' A bloccare sta follia Del fondamentalismo vegano Basta Cioè è finita lì Non è vero La cosa bella però Che a me piace Per esempio Quando facciamo il podcast Ogni tanto andare Sul profilo YouTube E vedere le puntate Che pian piano si riempiono E come collezionare Le carte Si riempiono di visualizzazione No che si riempiono Cioè puntata Dalla 1 Siamo arrivati alla 27 Vedo questa piccola raccolta Di produzione nostra E boom Non lo so Mi riempie Secondo me Però è un passato breve Quello Sì brevissimo Però la cosa che mi piace Della Zanzara È che non solo ha Perché poi voi lo fate quotidianamente Quindi avete una produzione Infinita di puntate Ma puoi creare proprio dei cicli E dei personaggi Che si portano avanti Nel tempo Sì la cosa dei personaggi È un po' una fissazione Cioè io spingo molto Con chi lavora con me Per la ricerca Proprio di personaggi La cosa che mi stupisce A me È il fatto che Si è nato come un programma radiofonico Ma non aveva La forma di un programma radiofonico Ed era a tutti gli effetti Un podcast Sì No ma è Allora Molti Io ho visto Molti Associano la Zanzara Allo Zodi 105 Cioè come mondo Come linguaggio Non c'entra un cazzo Secondo me Non c'entra assolutamente Perché Lo Zodi 105 È molto legato alla radio Gli stessi creatori Dello Zò Hanno un percorso Che viene dalla radio La Zanzara È un'altra cosa E un'altra cosa Che mi stupisce È che vi permettete Di toccare degli argomenti Che in altre trasmissioni Non sarebbe permesso Cioè Non hai mai avuto Ripercussioni Rispetto a delle dinamiche Che si sono create Ho rischiato Ricenziamento più volte Per tutte queste storie di sesso Soprattutto Quando ho cominciato A parlare di sesso Nei dettagli Che però per me È una cosa scientifica Non è una roba Di perversione O comunque di guaglierismo E basta Cioè anche un po' Di esibizionismo Naturalmente Un po' di guaglierismo Come in tutti noi Però fondamentalmente Ho cercato sempre Di affrontare le cose Il sesso anale Un funerale Un funerale Dopo la morte Non c'è niente di male Su web Si è spogliata Non c'è niente Perfetto Cosa che mi stupisce Che tu sei sensibile La bestemmia Sono sensibile Vecchio veneto Toscano Che bestemmia Come intercalare Non mi dà fastidio Ok Però una bestemmia così Al volo Senza senso Che non E poi foneticamente Mi dà fastidio Io pensavo Che farà un'arte Anche quella di bestemmiare Insomma Non tutti Sì ma ragazzi Gennaro Mosconi Eccetera Sappiamo tutti C'è gente Che ha passato Nottate A vedere i video Di Gennaro Mosconi Non so se lo conosci Sì sì Germano Chi è che chiude Quella porta Chi è che sbatte Quella porta Sì va bene Insomma Videomitici Che appartengono Alla storia Io sai che pensavo Che nonostante Tu ti sia Spinto Molte Molto Oltre il limite Per quello che è Confindustria Credo che la bestemmia Non sia accettata Cioè puoi fare le foto Con una signora Con il pisello di fuori Ma la bestemmia Perché se ci pensi È un po' un paradosso Cioè adesso È assolutamente un paradosso Però Se tu bestemmi Durante una reality Dove accadono le cose Più turpi Diciamo Comunque la comunicazione Non è quella Cioè Per chi ascolta La bestemmia Ha un valore infinitamente Se vuoi No Molto più Basso Cioè Non è influente Rispetto a quello Che avviene durante un reality Come a livello di comunicazione Certo Succede di tutti i colori Di peggio Parlano di rapporti Di qualsiasi tipo E però non è accettata Gente che è stata espulsa Gente che è stata cacciata Da Rai Gente che ha passato dei guai E viene ricordata Solo quello che bestemmiò Sì sì è vero Cioè non perché tu magari Hai rubato Qualche cosa Ed è messo più o meno lì È lo stesso livello Di un crimine No peggio Cioè peggio di un crimine Di una persona Si ricorda Magari Non si ricorda un fallimento Che ne so Un qualcosa Ma si ricorda Però è quello che bestemmiò Durante Da crema Ti ricordi Roberto da crema C'è un sacco di gente Che è bestemmiata Ci sono su internet Persone che fanno Della loro Della bestemmia La loro Carriera Ma infatti è assurdo Che È una cosa così repressa Cioè alla fine Poi più la reprimi Più cerca di uscire fuori È una parola Secondo me Infatti non è più neanche così Tanto repressa Beh se prova ad andare in televisione A sparare un po' Non vai più in televisione È ancora così Invece su Twitch Bestemmiano tutti Appunto Sì Su tutti Tutti Bestemmiano tutti È libero Tu vuoi far andare su Twitch L'altro ce l'ho mai detto Fai su Twitch Fai la zanzana su Twitch Soffre un sacco poi È finita lì Tutti a bestemmiare Però tu hai ragione L'ultimo grande tabù Della comunicazione è questo L'ultimo grande tabù D'appunto di vista Diciamo delle parole da dire Perché poi ormai si dice di tutto Esatto Però è giusto Se non esistessero dei paletti Io sono convinto di questo Che le proibizioni Io non le sopporto Come tutti voi Siamo dei libertari Sicuramente Magari ci dividono tante cose Ma non questo Però i paletti servono Perché altrimenti Non ci sarebbero i libertari Sembra un paradosso Ma è così La Chiesa Cattolica Un po' serve Io non la sopporto La Chiesa Cattolica Il Vaticano Per me si dovrebbe trasferire Da un'altra parte Io sarei contentissimo Se si trasferisse ad Avignone Come disse una volta Lutwak I giovani non lo conoscono Lutwak è un politologo americano Però insomma Disse il Vaticano Si dovrebbe trasferire ad Avignone Benissimo Sono d'accordissimo Però se non ci fosse Si perderebbe quel contraltare Che un po' siamo noi Si si la libertà assoluta Ha bisogno No la libertà assoluta Non è libertà No cioè Non è Ha bisogno di qualcuno Che la vuole reprimere Si Come in tutte le cose Siete sicuri di questa cosa qua Sì Io sì Libertà assoluta Cioè no ma non è questione Libertà assoluta Cioè l'essere libertari L'essere Ha bisogno di qualcuno Di un contraltare Ha bisogno di qualcuno Che invece sia un conservatore Che quella cosa là La voglia conservare Sinceramente Io non C'è quello che dico oggi Penso Io ho sempre Anche come figura Non mi sei mai piaciuto Te lo dico sinceramente Solo solo E ci sono stati periodi In cui mi hanno attaccato fortemente Quando facevo cose Ma però io attacco Non la persona Io attacco le frasi Sì sì Quello che dicevo Io attacco le cose Che uno dice Poi però ho fatto il giro Forse anche invecchiando No Ho iniziato a rivedere la zanzara Io non Cioè lo ammetto Io guardo solo la zanzara Cioè io gioco alla play Faccio qualcosa Ascolto solo la zanzara Perché ho capito L'essenza Di che cos'è la zanzara Cioè una volta La guardavo come un programma politico E lo vedevo un po' fazioso Con idee che è Contrastanti dalle mie Che spingeva cose Che non mi piace Invece ho capito che cos'è Cioè è una macchina creativa Cioè non è Io per esempio Io con Federico Cosa è successo? Ci siamo incontrati tanti anni fa Aveva delle idee sue Che io contrastavo Tra virgolette Ci fu tutta una polemica Con un giornalista Che molti non conoscono Che si chiama Facci Eccetera In cui io ho Diciamo non è che ho preso le parti Era un po' diciamo Simpatizzavo per Filippo In questa diatriba che hanno avuto Alcune cose che diceva lui Non le condividevo Lo dicevo alla radio In maniera aspera Qualche volta abbiamo tentato Di Camarro non è voluto venire E vabbè Chiusa lì la questione Dopodiché Che è successo? È successo Che lui L'ho criticato pure Cazzo ma uno che fa così Diciamo tra virgolette Il rivoluzionario Uno che fa Uno di quelli Che vuole cambiare il mondo Poi si mette a fare Pubblicità dei marchi Eccetera Però ho apprezzato moltissimo A un certo punto Una cosa Che lui ha detto In un'occasione Io sono cambiato E sicuramente Quello che dico prima Non è che non lo posso più dire Tu a un certo punto Hai detto una frase Adesso non mi ricordo esattamente Qual è il virgolettato Esatto che hai detto So che ho fatto un passaggio Che può essere contestato Rispetto a quello che ero prima Sì Che sono diventato Quello che ho sempre odiato Esatto Ma poi ho compreso Che la contraddizione Degli esseri viventi È la cosa più interessante Dell'essere viventi Allora quando ha detto Quella cosa Per me Ho cominciato Non conoscendolo bene Ho cominciato a capire Un po' di più la persona Cioè uno che ha il coraggio Di dire Sono diventato Quello che ho sempre odiato Cazzo ma chi è che Che ha diciamo Il coraggio di dire questo Quando è cercato dai brand È cercato dalle aziende E dice Io sono diventato Quello che ho sempre Cioè è come se avessi detto Io odio sostanzialmente Me stesso Odio me stesso Però l'uomo è fatto di contraddizioni C'è chi cerca la coerenza sempre C'è chi dice Cazzo tu hai detto una cosa prima Vaffanculo Che è un'operazione Che facciamo noi spesso Anche alla radio Di cercare le persone Ma tu avevi detto questo Operazione facile Però anche su questo Un po' ci ho ripensato Dici vabbè Cambiata idea È la cosa più bella Io faccio sempre esempio Di De André De André Incensato Come una grande penna Un artista immortale Ed intoccabile E lo rende Lo disinnesca La cosa più bella Di De André Sono le sue contraddizioni E la cosa che a me Affascina di più Di De André Per me rimane la musica Per me rimane la musica La musica Sì Ma Sì La musica Ma anche completamente distaccata Dalla persona Certo Come tu prima dicevi Che attacchi le argomentazioni Prima ancora di guardare Alla persona In sé È difficile come operazione In realtà O tu pensi che sia Ma io guardo le frasi Di una persona Io non attacco mai La persona In quanto tale Cioè non dico mai Quando dico Quello è un cretino Un deficiente Un imbecille Mi riferisco a quello Che dice in quel momento Non che in assoluto Quella persona sia un imbecille Poi magari è un imbecille Comunque In assoluto Però io Dico una frase Chiara Ferragni dice È un fascismo E io dico Cazzo Per me è una puttanata Non dico che lei È una deficiente Un imbecille Ovviamente Perché non lo è Però Secondo me Quella frase lì È una puttanata Sì ma poi anche La cifra del podcast Luis che cazzo stai facendo E i caffè Si sono rovesciati L'hanno portato tre caffè Invece che cinque Si sono rovesciati Vabbè siamo in tre E mi è arrivato Il messaggio in inglese Cioè posso dire Che avete ordinato Mezz'ora fa Questi caffè Quando era meglio Un bar qua sotto Del cazzo Di uno sfigato Qualsiasi No infatti Ho pure speso un sacco Ammazzati Dalle multinazionali Eppure Ho usato la moto Lo smog Cioè L'hai inquinato Parlavamo con Mara Maionchi L'altro giorno No? Che chiedevamo Come tieni vivo Un matrimonio di 45 anni E lei ci ha detto Ma così normalmente Invece io sono convinto Che un matrimonio Una relazione Che deve durare nel tempo Deve avere Il suo angolo Di perversione Cioè deve avere Il suo angolo Segreto Mara Maionchi Ha una relazione Di 45 anni Di un caso Diciamo abbastanza Per la sua generazione No in realtà Sì no è vero Non è un caso raro Però ad oggi Se ci pensi Ad oggi Per come viviamo la vita Fast food Mordi e fuggi Cioè Tantissimi Lo persegue Tutti noi Un minimo Abbiamo la stabilità E l'equilibrio Come obiettivo Secondo me È la gestione Della noia Cioè gestire La noia Insieme È un qualcosa Di fondamentale Se tu non riesci A gestire la noia Insieme Nascono problemi Casini Infatti Prima ancora Della sessualità E imparare a conviverci Un'intesa parlando Con il fatto Che uno Non si parla Magari Non si parla Per giorni Non si parla Per ore Cioè Di guardare Di guardarsi E non avere In quel momento Nulla da dirsi Ma è giusto Che sia così Dopo 3 4 5 anni Ma anche dopo un anno Cioè La questione fondamentale Nelle convivenze Stiamo parlando di questo Nelle persone che vivono a contatto È la gestione Della noia Poi uno la può riempire In un altro modo Cioè la può riempire Appunto Sessualmente Cercando degli escamotaci Perché dopo un po' Ragazzi A me succede spesso Anche Dici Dopo 6 mesi Ma io dopo 6 mesi Già voglia di scoparmi In altre persone Ma non c'è dubbio Cioè ma anche dopo qualche mese Anche dopo Cioè La prima volta In contemporanea No In contemporanea Cioè quando tu stai con una È impossibile Non ti venga voglia Di scoparti un'altra Cioè è impossibile Cioè Comunque Io non dire quella ragazza Io non credo Nella monogamia Nel ventunesimo secolo Ma la monogamia È una roba ridicola Senza senso Cioè una roba Che appartiene al mondo Della Come dice Sgarbie È una malattia mentale Una perversione È una patologia La monogamia è una patologia Perché non è possibile Sì Non è Non è È un grande sforzo mentale Cioè qualcuno dice Io sono Capito Sono monogamo Perché sono Perché sono Non sono fedele Sono Innamorato Sì Sono innamorato Non è che cozzino La fedeltà Sono leale Sono leale Ma la lealtà Innanzitutto deve essere Verso te stesso Verso la tua natura Se la tua natura Se ti reprimi Se ti reprimi È un problema Allora meglio raccontare la cosa Cioè meglio trovare Una persona Con cui ti racconti In cui dici Oh io quella tipa lì Me la scoprirei Esatto Oppure dire Guarda stasera Avrei voglia di scoparmi un'altra Cioè una che ho visto Avrei voglia di scoparmela Che dici Quella si incazza Ci discuti Magari alla fine Non te la scopi O comunque non provi A scopartela Oppure quella dice Senti Nel caso limite È comunque il più virtuoso Secondo me Alla fine Dice vai Vai Prova a vedere Tanto comunque torni qui No è impossibile Perché scuoti la testa No perché fa cagare Però ragazzi La monogamia è un miraggio Chi è monogome Felice Va bene così Secondo me Non è che ti perdi qualcosa L'importante è essere felici E non reprimerti Non è che il monogome È un felice No bisogna trovare Un equilibrio La cosa fondamentale Secondo me È la sincerità A.k.a Il Che è complicata E non tradire Perché raccontare una persona Mi ha mandato un messaggio Una Con cui io ho iniziato così Dirlo continuamente Cioè la sincerità Al cento per cento Una cosa È un lavoro Pure quella Puoi omettere Puoi omettere Però già dire Quella ragazza mi piace Me la farei E viceversa Lei ti dice Quella ragazza mi piace Perché così non è tradimento Non è tradimento Però è una cosa Che io non vedo fare spese Io e mia moglie lo facciamo Sì sì ce lo diciamo Cioè mi piace quella ragazza Ma in maniera molto trasparente Ma vi siete traditi? No traditi no No traditi nel senso Non vi Vabbè Non lo diresti Ma comunque Sì a parte che non lo direi No ma nel senso Non ve lo siete detti Cioè non ve lo siete detti No no ma lui lo sa Cioè quando siamo in giro Io dico Va che bella figa Lei diceva Che bel ragazzo Sì 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 Chiara spesso mi tocca Quando Fede ha girato Non è vero Ti tocca come un figlio Ti tocca come Ti tocca come un cugino Ti tocca da cugino Però se poi ci pensate Domani No Uno qualsiasi di noi Dichiara pubblicamente Di essere Poligamo Come viene presa la cosa? Viene Bravissimo Grande tabù Grande tabù Di adesso Dimenti un freak Fra poco uscirà un mio libro Che ha come titolo Nudi Che è una raccolta Di tutte le interviste Che abbiamo fatto Alla Zanzara su Sesso E oltre In cui Si spiega Tra le altre cose Non raccontate da me Ma anche da altri Che ci sono ancora Dei tabù Per esempio Se tu dici Che sei Che frequenti più donne Insomma Che sei poligamo E d'accordo Con la tua Che vivi una situazione Diciamo di coppia aperta Certo Non è che ti vedono bene No Il tuo posto di lavoro Tra la tua cerchia di amici Eccetera eccetera Una volta Per esempio Io sono convinto di questa cosa Che prima La questione riguardava i gay Cioè tu dicevi Sono gay E vent'anni fa Un po' era un problema Sì sì è vero Adesso Adesso se tu dici Che ne so Amo che la mia fidanzata Venga scopata da altri Davanti a me Ho un rapporto aperto Cioè lei scopa con uno Con altri E io scopo con altre E no Non è così facile dirlo No no Che strano Quelli sono scambisti Cioè sono strani E questo è Beh in effetti Sapete cosa mi farebbe strano Però che uno pubblicamente Dovrebbe dire una roba del genere Sì secondo me Il coming out Cioè che cazzo me ne frega Non c'è la necessità Perché devi dire che sei gay Per esempio Perché devi fare coming out Dicendo che sei gay È uguale È la stessa cosa Sì è vero È vero che quello è un aspetto Che non è solo la sessualità Il gay Invece quello è un aspetto Però no dai Il gay si porta dietro Diciamo Una storia Di repressione Di vessazioni Che forse ha senso Certo Dirlo in pubblico Però non sei obbligato Nel senso Sì Sì no non sei obbligato Sto dicendo che è la stessa cosa Sto dicendo che Oggi Se tu riveli alcuni aspetti Della tua vita privata Della tua sessualità Che non sono comunemente accettati Che non sono patrimonio Diciamo accettati Come che ne so Come il tradimento Ormai prima Il tradimento non era accettato Era addirittura punito L'adulterio Adesso Adesso non più Se tu dici Io ho una vita aperta Viviamo una situazione Da coppia aperta Mia moglie scopa con altri O la mia compagna scopa con altri Io scopo con altri Ce lo diciamo E godiamo a dircelo O addirittura Ancora di più Siamo una coppia scambista O ancora di più A me piace solamente il fatto Di portare mia moglie A scopare con altri Una cosa del genere Viene vista Come una cosa Come una cosa negativa Una volta è venuta Una coppia scambista Da me in studio Alla Zanzara Situazione simile a questa Più o meno Studio grande Un po' più grande di questo E lei è venuta tutta Imparruccata Truccata Lui con una passamontagna Cazzo vedi Tipo Traditore Sì sì Anonima sequestri Capito Ma cazzo Ma perché ti presenti così Lavoro per una multinazionale Lavoro per una cosa Non posso dire Di essere una coppia Di essere uno scambista Porca puttana Ma come non puoi dire Di essere scambista Perché poi Capito La gente Per cui lavoro Si scandalizza Non sei un rapinatore Non sei andato Ti presenti qui Come uno Uno della mafia Guardate che è super attuale Cioè in un periodo in cui Soprattutto i giovani Sono sensibili Alle tematiche Del gender Di sdoganare Un certo tipo di realtà Cose che sfociano Anche in un perbenismo imperante Questa cazzo È una battaglia Interessante Non è una battaglia Semplicemente Ognuno faccia il cazzo Che gli pare Lui ha detto una cosa Non è necessario Dire in pubblico Che tu sei così D'accordo Puoi viverlo solo nel privato Però è vero Che quando Quella cosa lì Diventa uno stile Di vita Ok Nasconderla è difficile Esatto Quando quella roba Lì diventa uno stile di vita Cioè tu sei Una coppia scambista Cioè tu hai Una serie di relazioni umane Che si basano Su questa roba qui Cioè dire Potenzialmente Esci in coppia Potresti incontrare persone Con cui scopi insieme Cioè quando diventa Una parte importante Della tua vita Magari succede Che tu Ma lascia perdere pubblicamente Nella tua cerchia di amici Sto parlando Lo dici E invece Dirlo anche Nella cerchia di amici È una cosa Che tu ci pensi 40 volte I miei amici Pensano Che io sono Un malato di mente Secondo me Non ho bisogno Di un psicologo Non so Nella vostra Non so se Nella mia generazione Se un mio amico O io Dovessi dire Sono poligamo Non succederebbe Perché non succede Perché non è così Noi stiamo parlando Di coppie Naturalmente Quando sei un po' più adulto Sei ancora giovincello Sei ancora promiscuo Vivi una vita promiscua Non lo so Può darsi che sia Una roba di Over 30 Ma la vera domanda È questa Secondo voi Un rapporto Tradizionale Rispetto Ad un rapporto Aperto Dura di più Formalmente Magari Formalmente Magari sì Non lo so Io conosco persone Che hanno raggiunto Il loro equilibrio Solamente In questo modo Cioè dire Limitando Anzi Grazie Allo scambismo Cioè grazie Chiamiamolo così Scambismo Grazie al fatto che Hanno una relazione aperta Sono riusciti A tenere in piedi Il matrimonio Dunque paradossalmente Il rapporto aperto Quando è dichiarato Quando è Frutto Sano La consapevolezza Da parte di entrambi Non è uno che forza L'altra persona Non è il marito Che forza L'uomo Che forza La donna Dice Cazzo Facciamo qualcosa di diverso Famolo strano Consolida il legame Consolida il legame Sì Può consolidare il legame È evidente che È una cosa complicata Perché poi Ci sono delle ripercussioni Psicologiche Nell'atto sessuale Che tu vedi La tua donna Scopata da E il contrario Che non sono Valutabili Prima Per cui tutto Deve essere valutato dopo Però c'è una persona Che mi racconta In questo libro Lo spiego Che alcune coppie Hanno scoperto Questo nuovo modo Di fare sesso Questo nuovo modo Di affrontare anche Le relazioni umane E prima magari Erano frenate Oppure avevano dei problemi Non scopavano E poi hanno cominciato Invece a trovarsi A trovarsi E il loro percorso Che magari si poteva dividere È rimasto lì Invece è continuato Pensa te Faccio la pipira È tutto un cambiamento Ma pensavo Oggi venendo in monopattino Pensavo volesse fare pissing Infatti vedi Che sono andato in tre Venendo qua In monopattino C'è sto tema Che mi balza Sempre in testa Il fatto che è un ciclo E che dicevo A mio fratello Ho visto una porta romana Ho detto chissà Nell'antica Roma Probabilmente Erano già arrivati A superare magari Il razzismo In un certo periodo Non lo sappiamo Magari cento anni Dove non è esistito Magari dove erano Più evoluti In un certo modo Magari anche sessualmente Nell'antichità Diciamo la monogamia Non esisteva Esatto E ho proprio pensato Chissà se siamo già arrivati A delle soluzioni Molto più funzionanti Di quelle che stiamo Vivendo ora Sicuro Solo perché ho visto Questa porta Che era bella solida Pensavo Guarda come erano Anche più bravi A costruire le cose Che ora crollano Sì in certi casi Quasi il conquistarsi Il diritto Di dimenticare Certe convinzioni Più che Di guadagnarne Di nuove Cioè come dire Staccarsi dalle Sì staccarsi Da dei preconcetti Dei modi di fare Che si sono affermati Nel tempo E ne hanno esclusi altri Sì ma l'importante È non Farlo a ogni costo Cioè non è che tu Non è che la società Ha bisogno Per forza Che il sesso Sia libero Che il sesso Sia Capito Sia di gruppo Non c'è nessun obbligo Da questo punto di vista Però non deve essere nemmeno Visto come una malattia Come una specie di patologia Perché Dicevamo prima Che secondo me Se uno oggi Anche nella sua cerchia di amici Dice che Vivo la sessualità In un certo modo Viene visto In maniera In maniera negativa Cioè Vieni considerato Uno Diciamo Uno scambista A te piacciono Sì Un deviato Una deviazione Una deviazione Che non è solo Essere peticisti Di qualche cosa E viene considerato Una deviazione Uno dei pochi tabù Nel sesso Che ancora deve essere superato Ma perché in generale Siamo portati molto A pensare A incompartimenti stagni Faccio un altro esempio La transessualità Noi siamo abituati A pensare Che un transessuale Cioè Un uomo Che vuole Prendere il percorso Per diventare una donna Anche viceversa O viceversa Però prendiamo Un uomo Che diventa donna Tu dopo Cosa sei portato A pensare Che lui Sia una lei Sia una lei E che sia tratta Da Dagli uomini No A me non è detto Bravi Però in generale Secondo me Io stesso Ero portato a pensare Che un transessuale Che diventa donna Sia attratto dagli uomini Invece no Può sentirsi donna Non sei d'accordo Un transessuale Che diventa donna C'è un transessuale Uno che tiene il pisello Diciamo Tiene il pisello Ci sono varie tipologie Ci sono una marea di tipologie Da questo punto di vista La maggior parte dei trans Che ho conosciuto Vogliono assolutamente Maschi e non donne Sarebbe ironico Se si Cioè però sto parlando Poi ci sono transessuali Attenzione ci sono transessuali Prostitute Già bisogna distinguere Perché chi fa la prostituta Chiaramente ha un suo target Che è quello maschile Diciamo Anche se poi cresce Cresce il numero di donne Che cercano i transessuali Me l'ha rivelato Una transessuale Alessia Nobile Di Bari Molto conosciuta Una che va Anche settimane intera A Sanremo Fa un sacco di soldi Una che abbiamo scoperto Noi alla radio Un personaggio fantastico Di Bari Dovresti assolutamente Invitare Personaggio straordinario Alessia Nobile Una transessuale Che sostiene Che c'è un mercato In aumento Di donne Che O coppie Che cercano Transessuali Ma è la donna A spingere su questo Perché magari La donna a cui piace Essere scopate Da un transessuale Però è vero Che la maggior parte Dei transessuali Che fanno questo messiere Sì però Non è detto Può esserci un transessuale Che si sente donna Ed è attratto Dalle donne Può essere? Sì sì No ma può essere Ci sono sicuramente Si chiamano Sorelline Tra di loro Cioè Cerco una sorellina Ah si dice così? Sì si dice così Cioè nel senso Cercano Cercano Ci sono transessuali Che cercano altre donne Quanto può guadagnare Un transessuale? No ma anche 300-400 l'anno Io ne ho intervistata una Beh se fa L'amministratore delegato Di un gruppo Di un gruppo Sì guadagnano Come l'amministratore delegato Di un grande gruppo No Efeball Ai tempi d'oro Ai tempi d'oro Guadagnava Mezzo milione l'anno Secondo me Tutto in nero In nero Assurdo Mezzo milione l'anno Porca vacca In banconote In banconote Contanti In banconote contanti Infatti A un certo punto Ho avuto dal fisco Una cartella esattoriale Da un milione Giustamente Lotta perché Questa cartella esattoriale Si è annullata Ma che cazzo Certo scusami Non avete Metteva i soldi in banca Ha fatto la cazza Da quelli hanno fatto Un controllo Dove vengono questi soldi I cazzi miei Non mi riconoscete O legalizzate la prostituzione O c'è andate a fare un culo C'ha ragione Sì ma c'ha ragione assolutamente Cancellatemi la cartella esattoriale Ma che cazzo vuoi Non mi riconosci Io vorrei pagare le tasse Ma se tu non mi riconosci Il fatto che io la possa pagare Di cui parlavamo Il Vaticano Eccetera Sì anche Sicuramente Ragazzi la legalizzazione La prostituzione È una cosa ridicola Noi siamo circondati Da paesi Circondati È come la legalizzazione Della droga in parte Sì sì Basta che vai in giri l'angolo Ed è legale A parte la droga È legale comunque Cioè di fatto E quella è la follia Che in giro c'è ugualmente C'è ugualmente Poi c'è il fatto Che lo Stato Non ci vuole mettere la cappella Diciamo Non ci vuole mettere il cappello sopra Ma è una ipocrisia totale Anche sul sesso Anche lì Il tabù Lo Stato non vuole mettere Il cappello sopra il fatto Che le persone 9 milioni di italiani Vadano a prostitute E decine di migliaia di italiani Barcano il confine In questi tempi Diciamo un po' più complicato Ma mi dicono Che per esempio in Austria A Wellcome Fanno affari lo stesso In Germania un po' di meno Hanno dato un sacco di restrizioni A Wellcome Si scuopa senza problemi Fanno i test ogni giorno Siamo a Wellcome Sì Wellcome Che è chiaramente Wellcome Ci sei stato Mi avevano proposto Una sponsorizzazione In un bordello gigantesco Una spa Si chiamava Wellcome In Austria Billac Io ho fatto il giudice A la più bella prostituta Del bordello Straordinario Il giudice insieme A un culturista austriaco È una pornostata Probabilmente È lo stesso posto Non so quanti risultati È gestito da un italiano Allora lì la questione È che noi facciamo guadagnare Delle persone A 10 km dal confine italiano Che fanno business austriaci Che scelgono management italiani Su una cosa Che potrebbe essere fatta 10 km prima Porterebbe indotto all'Italia Punto Solo che noi non lo facciamo Perché che schifo Nasce il bordello a Tarvisio Ma nasce il bordello a Tarvisio Ci sono per tre giorni le polemiche Erbescovo E poi basta E poi finisce lì È vero che c'è un via vai Ma lì è in un bel posto In mezzo agli alberi Dove non vede nessuno Perché d'accordo Teniamo conto Dei ragazzini Della famiglia Il cazzo che volete Però fatemi fare il bordello Io farei Se non facessi questo mestiere Farei il gestore di un bordello Vorrei gestire Vorrei essere socio Di un bordello in unità Il primo bordello Puoi farlo No non lo posso fare Non è legale Col tempo Non è legale Tu non hai social network No io uso pochissimo Sai perché Perché alla fine Chi fa la radio Chi fa la radio E ha qualcosa da dire alla radio Cazzo è difficile trovare Un'altra forma di comunicazione È vero Molto complicato Cioè per esempio Il podcast e la radio Sono due cose in contraddizione Secondo me Cioè la radio Il podcast è una chiara alternativa Il futuro rispetto alla radio Però se fai radio Sto cercando di convincere In azienda Solo 24 ore Che non devono far fare podcast A chi fa la radio Cioè Quelli che fanno la radio Lavorano su un prodotto Che poi va anche in podcast Però è un altro discorso Ma non possono Perché tu devi concentrare La tua potenza di fuoco Su quello che fai Non sul podcast Che fai Un duplicato A me mi hanno chiesto Di fare dei podcast sul sesso Ci sono dei podcast In America straordinari Sul sesso Che sono formidabili In cui parlano apertamente Molto più apertamente Di quello che facciamo noi Di quello che faccio io E dice Sono replicabili Sì Ma se io comincio a fare un podcast Sex talk with my mom Ce n'è uno straordinario Che è su The Stitcher Sex talk with my mom Cioè un comico E una madre Che parlano di sesso Ma in maniera molto esplicita Ma tu potresti farlo Con una madre di Chiara Che ne so Cioè Questa è una bella idea Fai sex talk Ma deve essere una persona I due devono essere Molto in sintonia Soprattutto non devono avere Piazza sulla lingua E non bisogna avere paura Di dire alcune cose L'altro giorno ho sentito Una roba in cui c'era Uno Un kukold Sapete che cos'è? Naturalmente Immaginati sì Che raccontava Tanto qui si può dire tutto Raccontava come pulisce Come pulisce La sua donna Dopo che gli altri Gli sono venuti addosso Top assurdo Immagino con la lingua Con la lingua Con il cucchiaino Che cazzo ne so Con il bicchiere Raccogliendo col bicchiere E poi facendo Ci sono varie cose Ma era su un podcast Con la lingua Uno viene addosso Alla tua fidanzata Metti tu sei fidanzato Sì però Lo sperma di altri Non sei fidanzato Tu sei Allora Adesso però Ok dai Falla che fa ridere La posso fare? Falla che fa ridere Allora Lui Che non ce l'ha Questa perversione Fa s*****e Chiara Da un altro Ok Ok Poi A un certo punto Questo Vi s*****e su Chiara Pensa che immagini incredibili Ce l'ha Vi s*****e su Chiara E lui Pulisce Chiara Sì però con la lingua È un po' spinto È vero Già che ci sei Scusa Però pensi Allo s*****e Di qualcun altro Per forza Quello è Già che ci sei Hai fatto 30 Fai 31 Lascia perdere le implicazioni Guarda come è diventato rosso Vedi che ci sono alcuni tabù Chiedo scusa Scusami Scusaci Chiara Ma non volevo Perché loro Non conoscono la loro situazione L'unico di cui so è lui Per cui non era diretto proprio a te Facciamo finta che siamo Comunque sì Cioè una volta che sei lì Hai fatto 30 Fai 31 Ma come cazzo siamo arrivati Al fatto che qualcuno s*****e su mia moglie E io lecco La s*****e su mia moglie Ma non so se è Chiara Chiara perdonaci Non sappiamo quello che facciamo Il podcast però è così Lo devi accettare Le cose vengono così Non in divenire No no In divenire In divenire E non tagliare questa roba Non la tagliare Giura che non tagli Giuro che non la tagli Tanto hai parlato tu Non tagliare anche la parte in cui dico Giura che non tagli E ritiri attacchi una parte dopo Una cosa che mi ha stupito Parlando al telefono con lui Che sei un conoscitore di podcast E non è scontato Cioè comunque vieni dalla radio Una roba vecchia Impolverata Sono vecchio anch'io Cazzo Dimmi i tuoi podcast preferiti Ma guarda C'è sicuramente Barbero No ma anche stranieri No stranieri ce ne sono un sacco C'è questo qua che seguo Sex Talk with my mom Ce ne sono Bo Joe Rogan sicuramente Joe Rogan numero uno Per tutti Anche se Joe Rogan Cazzo Due ore e quaranta Con la stessa persona Non è semplice È una roba difficile da seguire Eppure i numeri che fa Sono incredibili Eh beh L'episodio 1800 C'è l'episodio 1800 Sì mi ripeto Mike Tyson Quaranta volte Ma me lo vedo semplicemente Perché per esempio Senza video Joe Rogan non esiste Perché poi i personaggi Cioè lì è la classica cosa L'intervista al personaggio Però ragazzi Cento milioni di dollari Da Spotify È l'unico che è riuscito A creare un business Incredibile Torna ai podcast Joe Rogan te lo guardi Ormai da qualche anno A questa parte Perché ne senti parlare Secondo me Sì perché poi Lui Lì conta molto Anche la presenza fisica Questo pelato Con la maglietta Così anche il modo di fare Sono quelle cose Che magicamente si creano E che non c'è una spiegazione Perché poi alla fine Sì contano molto gli ospiti Lui faceva il commentatore Di UFC Ancora lo fa Ancora fa il commentatore Molto poliendrico lui Ma è l'America L'America che funziona Si incastra proprio bene Sì io non ho idea Di che cazzo succederà Dopo che uscirà questa puntata In Italia Dove abbiamo parlato Di certe cose Ma non succede niente No ma penso proprio Nella carriera di una persona In America si incastrano bene Le cose sono molto più Efficaci Efficienti Sì quando prendi il via In America Ti fanno fare un boost Incredibile E hai un sacco di occasioni Per le mani Ragazzi i numeri sono diversi Perché le cifre sono diverse Le persone sono diverse In America I podcast Capito Le piattaforme di podcast Hanno uno sviluppo tale Che in Italia Probabilmente non ce l'avremo mai Però Danno 100 milioni di dollari Cifre che da noi Non esisterebbero comunque Perché la platea È il mondo Dieci volte tanto È il mondo C'è Sirius Adesso dico una cazzata Sirius che è la più grande Piattaforma di radio satellitare Ha comprato Ha comprato una società A 380 milioni di dollari Una società che si occupa Di podcast Che edita il podcast Di cui ti dicevo prima Sex Talk with my mom L'ha comprata Per pararsi il culo Perché il futuro È quella roba lì Perché tu scegli un brand Te lo puoi ascoltare In qualsiasi momento Scegli un nome Scegli una persona Da ascoltare Scegli Fedez Sceglierai magari i Cruciani O sceglierai che ne so Qualcuno Perché ha delle cose da dire Ah ti piace quello che dice E lo puoi sentire La notte Il giorno La mattina Cioè non c'è orario Io credo che arriverà Anche in Italia Perché pensate al contesto italiano Senza andare fuori Senza andare oltreoceano I talk show Cioè è tutta roba morta Cioè non Chi riguarda i talk show È proprio un format Il pubblico Della televisione Della televisione Che ancora c'è Che in Italia vivrà Che vivrà altri Perché si vive 150 anni No sono convinto Di no Sono convinto Che tra dieci anni Quel pubblico lì Sarà un pubblico Molto diverso E i numeri saranno Ancora più bassi Magari si rinnoveranno Automaticamente O cercheranno altre soluzioni C'è ancora striscia la notizia C'è ancora Paperissima sprint Sapete che Le risate finte Di striscia la notizia Sono morti Quelli che ridono Nelle risate finte Sono morti Sono tutti morti Sono risate degli anni 40 Sono morti Sono dei morti Che ridono Luis Sei tu che conduci la baracca Siamo tutti i tuoi ospiti Vorrei che tu leggessi Una frase Dal tuo libro Scrivendo questo libro Sul sesso Mi sono imbattuto In Andy Warhol La filosofia di Andy Warhol Ci c'è tutto un capitolo Sul sesso e sull'amore Ognuno di noi Ha una diversa idea Dell'amore Su questo ci siamo Sembra anche banale Una ragazza Che conosco ha detto Sapevo che mi amava Quando non mi veniva in bocca Andy Warhol Dice tante cose geniali Questa roba qui Se la pensa No se la pensava È una cazzata Non è che se tu vieni in bocca A una non l'ami Perché c'è questa distinzione Tra l'amore E il sesso Diciamo spinto Allora se lei lo vuole Sì ma non è che Ho capito Questa ragazza Che poi è Andy Warhol Che pensa Se uno mi viene in bocca Non mi ama Cioè significa che l'immagine Della donna che ami È distinta Da quella che beve Ti beve Da quella che ingoglia Ragazzi ma di che stiamo parlando No è vero Cioè è una cazzata Cioè tu poi Cioè ci si può amare Pure col bocchino Con l'ingoglio Cioè con la No cioè Tranquillamente È una bella frase Perché Perché si è spinto È poetica È poetica Vabbè questo è Un artista Cioè non è che devi trattare Puoi trattare da Troia Dovresti trattare da Troia Troia in senso buono Perché poi c'è una grande distinzione Quando uno dice brutta Troia Le femministe si incazzano Vogliamo sdoganare la parola Troia Sdoganiamo la parola Troia insieme Cioè uno può dire Una Troia E io lo dico Troia Ed è Molte persone che conoscono Sono contente Sì sono Troia È vero Ma sono Troia Non significa Cioè ragazzi Ma se noi scopiamo 50 donne all'anno 60 donne all'anno Siamo considerati Nel mondo che ci circonda Dei gran figli Cazzo ti sei scopato 50-60 donne Se una donna dice Mi sono scopata 50-60 uomini Cazzo quella è una Troia E qualcuno lo dice anche In senso negativo Dispregiativo L'uomo viene chiamato puttaniere Che lo stesso dispregia la donna Sì esatto Sei un puttaniere Poveretto Perché è puttana quella là Cioè sei un puttana Perché non è puttana Fa la stessa cosa Che fai tu Cioè A noi piace la figa A loro piace il cazzo Per cui una donna A cui piace il cazzo E che cambia cazzi continuamente E che vuole scoprire nuovi cazzi Perché la dobbiamo considerare Capito Come una strana Cioè come una No ci piace Però diciamo una Troia E c'è sempre un pizzico Di no C'è sempre un pizzico Di non dico di disprezzo Ma di No la incaselli In una roba Sì sì è vero Mi piace scopare E basta Per cui l'amore Non è che è distinto Le due cose si possono unire Poi è una bella parola Troia Troia è bellissimo Il mio cane Mia mamma e io La chiamiamo Pippi Troia Il nostro cane Si chiama Pippi La chiamiamo Pippi Troia Perché Perché si concede a tutti Appena vede uno nuovo Si sdraia Ti dà la pancia Sì Se esisti nei confronti dei cari Non lo diresti se fosse Capito Fosse umana Se fosse No Se fosse un maschio Se fosse un maschio Se fosse un maschio Non lo chiameresti Pippi 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 puttaniere Pippi puttano Pippi Pippi Opportunista No Non ti verrebbe Da dire Troia Troia è un maschio No No Non lo diresti Invece con la donna C'è un'accezione negativa Invece bisogna stocanare questa cosa Invece tu nel linguaggio Neo-feminista di adesso Dire Troia a qualcuno Vai a finire in tribunale Sicuro Ti dici quella è una Troia Cazzo Quella ti porta in tribunale Ti fa un culo così Cioè Chiaramente poi Spesso viene detto Sui social In maniera negativa Quella è una Troia Però Se uno si limita a dire Quella è una Troia Qualcuno ti può condannare Perché oggi ti condannano Per una cosa di questo tipo Però secondo me è sbagliato No Bisogna fare le cose Uno potrebbe dimostrare Do una mano a qualche avvocato Che la parola Troia Ha un'accezione assolutamente positiva Dipende se stai Tentando di offendere Poi io odio le persone Che ragionano sui social Cioè Dico Quello hanno detto nei social Mi hanno offeso sui social Ma che cazzo te ne frega Che ti hanno offeso sui social Non li guardare Non li leggere Che cosa cazzo te ne frega Le offese sui social Io trovo che chi Cioè Perché sono persone Che in realtà Vogliono crearsi un business Su quello Cioè godono E spesso ottengono dei vantaggi A dire Cazzo Tutte le offese sui social Ma che te ne frega Delle offese sui social Sì infatti Cioè Ma non Ti dice un modo per fare vittimismo Certo Ma anche per dargli importanza No Certo È un modo di esibirsi Mi posso sentire offeso Da quello che viene detto sui social Una cosa è La persecuzione delle persone No Cioè una cosa è Le offese gravi Che cazzo ne so Le minacce Le minacce Va bene Anche quello Chi minaccia sui social Che ormai Te rintracciano Pure No Se sei in Afghanistan Su un sentiero Nascosto Perché ci sono tutti i modi Per rintracciarti Sono delle minacce Così sui generis Noi abbiamo fatto ogni tanto No Abbiamo fatto pizzicare Alcuni che minacciavano Che ne so Presidenti della Camera O Presidenti della Repubblica Una volta ci fu un caso Di uno che ci chiamò Dicendo io ho le pistole in casa Ammazzerei qualche politico Dopo due giorni La polizia era già lì Eccetera Però quello Aveva le armi veramente? Sì Aveva le armi Era pure un cosa Era pure un tipo Un guardia caccia Era uno che Ce l'aveva legalmente Le armi Però dice Vorrei sparare a quello Dopo due giorni Era il gabbio Però quelli sono casi limite Perché tu chiami C'è il numero di telefono Almeno ci ha messo il nome Sei un pazzo scatenato Però anche quelli su internet Cioè non sono minacce vere Alla fine poi voglio vedere Perché tu sei abituato Tu sei abituato Alla zanzara Sì Quotidianamente qualcuno chiama O manda a fare in culoteo Parenzo E vi dicono le peggio cose Non c'è dubbio È anche un format quello Io godo quando Arrivano dieci messaggi Contro di me Li mando tutti cazzo Mettiamo qui su un blocco Di messaggi contro di me Sì cilindro dove ti distruggono Sì voglio una cosa Più feroce possibile Che mi dicono Che sono un leccacuro Ti fai subito una scorsa Un amico di Salvini C'è la cosa più falsa del mondo Io non sono amico di Salvini Manco per niente Mi danno del salviniano Ma io sono amico Lo conosco Perché l'ho conosciuto Quando portava a spasso il ragazzino In un parco a Milano Per un periodo Ma non è che l'ho frequentato Ci siamo visti Quando lui pigliava il 3% Peraltro Cioè non adesso Ma non è che sono amico Cioè non Stai peggiorando la tua situazione Non ti preoccupare Qualche volta Qualche volta Ho condiviso alcune cose Che ha detto Dopodiché Avete amici di parchetto Ti stai avvitando Di questa amicizia No Si trascinerà No Io per esempio Uno come Buonanno Che era odiato Considerato un razzista Buonanno Grande Buonanno Che purtroppo è morto In un incidente stradale Se fosse stato possibile votarlo Lui l'avrei votato Ma insieme abbiamo Abbiamo creato delle cose straordinarie Buonanno andava in Parlamento Con i pesci Questo l'abbiamo fatto io e lui I pesci morti Abbiamo creato io e lui Contro la Boldrini Ci siamo messi d'accordo prima Io e lui Ci sentivamo E creavamo le gag Noi Dipingiti di nero Dipingiti di nero Vai in Parlamento E fai finta che Lì magari Un po' borderline Invitata In creato da me Prima al telefono con lui Cioè Adesso Posso dire Ha influenzato un po' No ma Eravamo una coppia formidabile Una volta al Parlamento Europeo Abbiamo tolto un quadro Che secondo lui era blasfemo L'abbiamo portato via Abbiamo fatto scaltare l'allarme Era due giorni Dalla visita del Papa Era un situazionista Assoluto Fosse venuto qui Ragazzi Voi sareste Sareste impazziti Con Ma lui era nipote Parente lontano di Petrolini Adesso Molti non sanno chi è Petrolini Meno elezioni Più erezioni Meno elezioni Più erezioni Abbiamo in frigo Ancora lo squirting Infatti ecco Lo squirting Devo dire In famiglia Ecco Quando è uscita Quella puntata Un po' mi dicevano Che porcata Io l'ho anche assaggiato Quello squirting Vi hai assaggiato i biscotti In una puntata a Firenze Lei portò lo squirting Lei portò il suo squirting Di due giorni prima Una puntata live Che facevamo a Firenze Prima del lockdown Poco prima del lockdown Lei portò queste provette Dicevo assaggiali Io mi sono messo E l'ho assaggiato proprio E c'è quell'odore Che è un misto piscio Vabbè lo sappiamo Che però è straordinario Mi è stato squirtato In puntata Da una Barbie Con lo squirt di Mauro La stringa Vabbè Ma non squirtato Live Lei ha messo Una Barbie Ho capito Col suo squirt Ti potevi far squirtare addosso Direttamente da lei Sarebbe stato incredibile Qui lo potevi fare Ma qui lo potevi fare Tranquillamente Ti mettevi là In un lettino In un lettino Oppure seduto così Con lei che squirta E sì Non so se è questo tipo di contenuti C'è una squirtata in diretta Basta mettere dei pixel Non lo so Sì basta mettere dei pixel Pixelato tutto Vedi che è esperto Cioè se è pixelato Tu puoi fare Puoi fare Se non si vede Sì sì Puoi cagare Puoi fare quello che vuoi Se è pixelato Cioè non si vede cosa Se non si vede la vagina Se non si vede la vagina Credo che si possa fare Ecco possiamo sdoganare la cosa Che gli uomini Che fanno la pipì da seduti Non sono virili Ma chi te frega Ma chi lo dice Non lo so Vabbè Se ti rompono il cazzo in casa Che sporchi le cose Non so sicuramente Adesso non voglio ogni volta Tornare sul tomo Qualcuno Qualcuno magari si incazza Si incazza Perché Perché tu sporchi la cosa A te non è mai capitato No ma io faccio la pipì da seduto Raga Sono comodo Perché lo fai Perché sei più comodo Sono comodo Sto lì al telefono Allora basta Ma nessuno ti offenderà mai Perché piaci seduto Tranne me In questo caso Non sporchi Io Ho sempre fatto in piedi Quando Le persone con cui Convivevo Mi rompevano i coglioni Con lo sporco Che tu puoi fare Perché comunque Io sporcavo sempre Non stavo attento Stavo lì così Me ne fottevo E via No proprio così No però insomma Capita anche la goccia Allora lì ho cominciato Anch'io un po' per No per Rispetto No rispetto Adesso Omologazione No ma è per una forma Proprio di Per evitare Le cagature di cazzo Vabbè Magari è per quello Mi metto a sedere Non sempre Faccio ogni tanto Non è vero Cioè 50-50 Ogni tanto in piedi Ogni tanto seduto Abbiamo scoperto una cosa Pulisci la tavoletta Con la lingua No però scusa Adesso ti sei tirato indietro Piscio Piscio Seduto Hai detto Poi invece adesso hai detto No 50-50-50 Perché ho capito Che non siamo ancora Pronti per queste dichiarazioni Ma come dire Non è che hai dichiarato Troppo Non è che hai dichiarato Che il papa è un criminale Troppo Un criminale Troppo Hai detto Piscio seduto No ho ritrattato 50-50 Ma scusi Bagni pubblici Come fai? La fai così? No Bagni pubblici in piedi Adesso Non è che Scusa Qui in piedi Appure c'è Qui in piedi No ma scusa Non c'è Quell'affarino ogni tanto Nei bagni pubblici Per esempio Nei bagni alla sole 24 ore dove vanno più persone c'è quell'affare che copre la cosa che copre la tazza la carta igienica è una forma so che la tua frequentazione di bagni pubblici la coroncina ragazzi io vado in tutti i cessi io conosco tutti i cessi di tutti i posti e allora c'è la coroncina intorno quella di carta la comodità di avere un pene no no ma infatti in giro in piedi è presente c'è uno strumento per fare per le donne perché possano fare la pipì in piedi è un pappagallo ma me l'ho subito a cercare non lo conosci? sì sì avevo sentito è un piccolo imbuto e dove lo metti? lo appoggi ha una forma che abbraccia la vulva e dirige il getto c'è un video dimostrativo non si può far vedere ma lo puoi pixelare è un imbuto che ti metti lì dove pisci ti metti lì e via come si chiude? ma voi avete il montaggio in radio da voi il montaggio che vuol dire? partono gli spezzoni però in diretta però hai già pronti degli slot giusto? no no c'è solo italiani per chiudere ognuno trova il suo modo di chiudere io chiudo sempre con italiani! davvero? sempre così italiani! ringraziamo Giuseppe Cruciani per essere stato con noi grazie a voi da Muschio Selvaggio che viva che viva Muschio Selvaggio viva Muschio Selvaggio che viva e gli italiani? gli italiani? no no non me lo farò farà me gli italiani? no è gli italiani io mi dissocio c'è di sbagliato nel patriotismo? no no ok ok